Nuovo appuntamento con la lettura, con i nostri consigli, torna tra le righe incontro con l'autore. Oggi incontriamo un frate francescano, parroco a San Severo, di nuovo ospite della nostra rubrica, Fra Andrea Tirelli. Ciao, pace bene, ben trovato. Ciao, pace bene a voi, grazie per l'invito. Questo è il tuo terzo romanzo, si intitola Facciamo come possiamo, edizioni Foglio di Via. E allora, Fra Andrea, hai scelto di scrivere un'altra storia, a incrociarsi sono le storie, le vite di due personaggi, che sono Germano e Luca, anche Lucchino, che si incontrano in un luogo difficile, ma anche di speranza, che è un ospedale. Hai deciso anche questa volta di far parlare un incontro tra due persone, così? Sì, 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 anche questa volta, come piace dire a me, in realtà, io più che essere uno scrittore, mi sento un ascoltatore di storie, per cui a me piace dire che sono le storie che vengono a cercarmi, e quindi anche questa volta c'era questa storia che è venuta poi a me, anzi, questa più delle altre è stata una storia che è stata così concepita tutto in una volta, perché, ricordo, stavo facendo, stavo facendo anche questa volta, ero in giro per le mie cose, e l'idea madre, naturalmente, c'è sempre un'idea madre, poi le storie si completano con altri micro racconti. Ricordo che l'idea madre di questa storia, questo rapporto particolare tra un adulto e un bambino, e così mi si è presentata sotto gli occhi, riflettendo su quello che stavo vivendo, questo rapporto strano tra gli adulti e i bambini, se vogliamo, anche legato a questo tempo, questo tempo particolare, questo tempo di pandemia, in cui sono i bambini che ci stanno dando un po' la misura, ci stanno dando un po' la modalità di approccio, e allora è questa un po' la storia, se vogliamo, la storia di un mondo visto in due modi diversi, c'è lo sguardo dell'adulto, lo sguardo appunto di Germano, dall'altra parte c'è lo sguardo di un ragazzino, di un bambino, di un ragazzo di otto anni, che appunto si incontrano in questa situazione particolare, che è l'ambiente di un ospedale, e di lì, insomma, nasce una storia, nasce una storia per tanti motivi. Fra Andrea, durante la presentazione del tuo romanzo, hai raccontato che a un certo punto ti sei bloccato nella scrittura, e tutto poi è riuscito a ritornare, insomma, sei riuscito a sbloccarti dopo un viaggio in Africa, che hai fatto prima appunto che scoppiasse la pandemia e il coronavirus entrasse nelle nostre vite. Quindi un viaggio in Africa che in un certo senso ti ha ridato quella voglia di scrivere, ma soprattutto ti ha fatto puntare l'attenzione su cose importanti della vita. Assolutamente sì, dicevo appunto di questo rapporto con i bambini. Questo viaggio in Africa, che non è stato certamente un viaggio turistico, un viaggio di vacanza, è stato piuttosto un viaggio, non dico la ricerca di senso, ma insomma è stato un viaggio per rimotivarsi, per rimettersi un po' in cammino, per ritrovare motivazioni. Grazie a Dio succede che ogni tanto c'è bisogno di queste pause, questi intervalli nella vita che servono un po' a rimotivarci. E sì, questo viaggio in Africa è stato un momento in cui la mia attenzione si è concentrata di più su questa capacità dei ragazzini, dei bambini, di guardarsi intorno. E allora io mi sono trovato ad essere, diciamo, l'adulto, un po' l'adulto strutturato con il proprio modo di affrontare la vita, tutto organizzato, con tutte le sue tecnologie in tasca per affrontare questa dimensione, per non avere paura dell'eventuale situazione che potesse presentarsi. E dall'altra parte ho trovato questi sorrisi incredibili di questi bambini che invece non hanno nemmeno un problema di vita, vivono la loro vita così rincorrendo, si giocando e facendo diventare tutto motivo di gioia. E allora, diciamo, questo ha... In me c'era già un'idea di scrittura, perché questa storia prendeva già da una vicenda reale. Però ecco, il viaggio in Africa mi ha dato poi la possibilità di mettere in bocca le parole al bambino, di dare a lui la forza di dire alcune cose, che poi sono quelle cose che smontano l'atteggiamento dell'adulto, che smontano e gli fanno aprire gli occhi questo passaggio di crescita. In realtà quello che succede all'interno di questa storia, in questo confronto, è proprio questa inversione di ruoli. C'è un adulto che in qualche maniera è rimasto incastrato all'interno della sua figura, del suo personaggio, è un vigile del fuoco dalla copertina del libro, si intuisce. È un po' quello che l'immaginario collettivo riconosce, questo eroe dell'ordinarietà. Questo personaggio rimane un po' bloccato nella sua storia, perché aspetta l'occasione, aspetta il momento per essere il grande, il salvatore, l'eroe, per vedere il suo nome magari riportato su qualche titolo, su qualche giornale. Però questa cosa non succede, per cui lui un po' passa il tempo e perde smalto. Si incubisce, come succede a noi adulti, che poi quando non ci sentiamo pienamente sfruttati, pienamente utilizzati nelle nostre vite, un pochettino ci incubiamo, perdiamo quello smalto e un po' ci perdiamo. Mentre questo ragazzino dall'altra parte ha tutta una situazione che l'ha portato qui in ospedale, una situazione molto complicata, molto compromessa. Chi leggerà la storia poi leggerà un po' la sua vicenda umana, non è la nostra semplice. Però ecco, non perde l'occasione di puntare il suo sguardo su questo che anche lui crede essere un eroe. Però insomma poi si accorge che è un uomo assolutamente comune. E questo dialogo che si fa sempre più fitto, questo rendersi conto di che cosa muove la loro ricerca, li porterà a quello che è poi la svolta della storia, che non anticipiamo altrimenti... No, assolutamente. Come si dice in gergo, non vogliamo spoilerare nulla, non vogliamo dare anticipazioni. Anzi, come hai detto tu stesso, hai messo insieme questi due personaggi e hai deciso di dare una svolta alla vita di Germano, un uomo ripiegato su se stesso e incupito, facendoli incontrare un bambino in un luogo difficile, che è quello della sofferenza, che è l'ospedale. Ma non anticipiamo nient'altro. Ci sono altri personaggi che ruotano intorno a questo romanzo. C'è il caposquadra Tirelli, c'è poi Martina, la moglie di Germano, c'è il nonno di Luca e altri personaggi, altri medici, altre persone che ruotano. Fra Andrea, in un tweet, in un post abbastanza breve, anche questo progetto, anche questo libro, aderisce al progetto Ti presto fiducia. Di che cosa si tratta? Ti presto fiducia adesso nasce... è già qualche anno che vive insieme con noi. Adesso a giorni nasceremo con un'associazione che prenderà lo stesso nome, Ti presto fiducia. Ti presto fiducia è un progetto che ha a che fare con... come si dice... con il sostegno alle persone in difficoltà, in difficoltà economica. È un progetto appunto che ha come obiettivo la raccolta di fondi, attraverso questa operazione di vendita dei libri, ma anche attraverso altre operazioni che poi sono nate, vendita di prodotti usati, tante altre iniziative, lasciate anche alla fantasia dei tanti amici che poi piano piano si sono inseriti in questo percorso, in questo progetto. Ti presto fiducia è innanzitutto oggi un percorso culturale, nel senso che stiamo cercando, insieme con questi amici, con queste persone, di promuovere la cultura, la cultura del bene, la cultura dell'attenzione all'altro. E poi questa cosa passa anche attraverso la possibilità di interventi economici. Naturalmente lì dove viene riscontrato il bisogno appunto di migliorare, di ottenere un prestito, o meglio più che un prestito adesso sono delle operazioni liberali, nel senso che quando ci accorgiamo che c'è qualcuno che è in difficoltà economica e ha bisogno appunto di una mano per rimettere in piedi la propria attività, naturalmente queste somme vengono concesse per delle finalità, per delle ragioni importanti, quindi oggi più che mai in questo tempo per aiutare soprattutto piccoli imprenditori, artigiani, che si stanno confrontando col tema della crisi, insomma che stanno cercando di rimanere in piedi nonostante le grosse difficoltà economiche che questo tempo sta chiedendo a tutti. E quindi appunto nel nome, la ragione, ti presto fiducia, questo significa, è una sorta di patto d'onore che si stipula con queste persone che ci raccontano le loro storie. E lì dove fosse possibile noi cerchiamo di intervenire o diciamo così con la concessione di questi fondi oppure cercando di aiutarli attraverso le loro attività a rimettere, comprando parte dei loro prodotti, cercando di sostenere insomma le loro attività, il loro commercio, le loro iniziative. Facciamo come possiamo, è il caso di dire, riprendendo il titolo del libro di Fran-Andrea Tirelli, edizioni Foglio di Via, il tuo terzo romanzo, grazie per essere stato con noi, per esserti collegato via Skype per presentarlo ai nostri telespettatori e parlarne. Grazie, alla prossima occasione allora Fran-Andrea, sicuramente al prossimo romanzo. Iniziamo a prepararci, iniziamo a prepararci perché adesso è in cantiere un'altra storia. Benissimo. Vediamo. Grazie, alla prossima occasione. Pace bene Fran-Andrea. Grazie. Grazie a tutti.